Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa bellissima maglia, la seconda del Milan per la stagione 2023-2024, la maglia di Rafa Leao. Grazie per la visione! La maglia è veramente molto bella, una delle mie preferite di quest'anno. Bellissimi i colori di un'ottima qualità. Fate attenzione perché le maglie Player di Puma io le ho trovate sempre molto strette, di questo forse mi serviva anche una taglia più grande. Il costo comunque lo vedete qui sopra, molto basso, non mi dilungo oltre, è veramente un costo incredibile. Per ordinare la maglia trovate qui sotto tutti i riferimenti. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più vantaggiosa. Ora vi lascio la parte finale. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale, spingete questo pulsante. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. Ciao!